Tre dottorati di ricerca attivati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata grazie all'accordo stipulato con le Università di Foggia, Bari e della Basilicata, istituendo a Officina Farmaceutica per la produzione di medicinali ad uso veterinario ed Open Session della FAO che esiterrà a Borgognazia, Fasano, dal 29 al 31 ottobre. Questi temi presentati in conferenza stampa nella Sala Battelli dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata questa mattina a Foggia. All'incontro con gli organi di informazione hanno preso parte il direttore generale dell'Istituto Antonio Fasanella, il presidente del CDA dello Zooprofilattico Agostino Sevi, il professor Nicola De Caro delegato per l'Università di Bari e il professor Giancarlo Colelli delegato per l'Università di Foggia. Per quanto riguarda l'Officina Farmaceutica abbiamo una certificazione europea, siamo il primo istituto d'Italia ad aver avuto questo tipo di riconoscimento, questo ci dà il via libera per riprendere la produzione del vaccino contro il carbonchiematico e siamo tra gli unici produttori a livello europeo. Per quanto riguarda i dottorati di ricerca, l'Università di Bari si interesserà di antibiotico resistenza, quello in collaborazione con l'Università di Foggia si interesserà di SEU e probabilmente avremo anche l'opportunità di poter approfondire meglio il discorso della presenza delle microplastiche nel pescato, è un'idea questa che ci è venuta. Invece poi quella della Basilicata si interesserà soprattutto delle contaminazioni degli prodotti di origine animale e alla fine l'open session dell'EUFMD e della FAO che si svolgerà a Borgognazza dal 29 al 31 di ottobre, questo ci sta creando veramente delle grandi soddisfazioni perché sono già registrati oltre 260 delegati provenienti da 60 paesi di tutto il mondo. La convenzione stilata con le università di Bari, di Foggia e di Potenza è una cosa che mi vede particolarmente coinvolto perché per il mio essere docente universitario direttore del Dipartimento di Agraria e quindi la mia gioia è veramente doppia perché è un esempio davvero di sinergia, di alleanza tra le istituzioni per fare ricerca e ricerca di eccellenza e la cosa mi rende ancora più orgoglioso perché il nostro dottorato, il dottorato del Dipartimento di Agraria, adesso anche degli ZS, è un dottorato molto aperto agli studiosi che provengono dall'estero. Per quanto riguarda poi la novità relativa all'officina farmaceutica è un grandissimo risultato del quale va dato grande merito al direttore generale certamente e infine l'essere presenti nella sessione, nell'open session della FAO che riguarderà un argomento così importante come l'afta episodica vuol dire che l'istituto si sta ponendo nuovamente con forza davvero al centro della ricerca a livello regionale, nazionale e anche internazionale. Il progetto che andremo a espletare grazie a questo finanziamento riguarda l'antibiotico resistenza, in particolar modo la caratterizzazione di quelli che sono i marcatori genetici che portano l'insorgenza di tale fenomeno nell'ambito del concetto di One Health, One Medicine perché come Dipartimento di Medicina Veterinare e come dottorato di ricerca in sanità animali e zonosi noi da anni abbiamo attivato filoni di ricerca che interessano non solo la salute e il benessere degli animali ma anche quella dell'uomo perché non è possibile pensare a una salute degli animali separata da quella dell'uomo e quindi grazie a questo progetto andremo a indagare quelli che sono i meccanismi di antipotoresistenza che interessano sia gli animali che l'uomo.